Sono cento le candeline spente questa mattina dall'ingegnere Andrea Scuto, cittadino di Tre Messieri, che oggi ha festeggiato questo traguardo così importante. A rendergli omaggio anche l'amministrazione comunale che lo ha accolto in pompa magna all'interno della sala consigliare, alla presenza del sindaco Santi Rando, del presidente del consiglio Ferdinando Smecca di tutta la sua giunta. Un traguardo significativo, dicevamo, che è stato raccontato dallo stesso ingegnere in 76 anni di professione, durante la quale ha vissuto anche all'estero in Perù e durante la quale ha anche realizzato dei lavori proprio per il comune di Tre Messieri etneo. Ha parlato anche della sua famiglia, dell'incontro con la moglie avvenuto a Taormina nel 1966 e la famiglia che per lui è un punto di riferimento. E poi ha svelato ai nostri microfoni il segreto per una vita così in lunga. Ma sentiamole insieme. Gli anni scorrono e sono scorsi molto bene in fondo. Ora sono diversi anni, anche 4, 2, 3 anni, che ho abbandonato, ho chiuso l'attività professionale, naturalmente perché non era più possibile. E vivo tranquillo dei miei ricordi, leggendo e soprattutto seguendo gli avvenimenti politici. E questa è la mia vita attuale, adesso tranquilla e casalinga. E il suo legame, il suo affetto a Tre Messieri è legato da cosa? Il mio affetto a Tre Messieri è legato dal fatto che abito a Tre Messieri. A Canalicchio sono a Tre Messieri, quindi ho fatto il progetto del fabbricato, che è grande abbastanza, è un condominio dove ci si abitano almeno una trentina di persone, poi c'è la banca e quindi ho avuto questo contatto con Tre Messieri dal punto di vista professionale. Ma qual è il segreto di questa sua longevità? È così una persona brillante, vivace? Non lo so, il padre eterno mi ha dato salute. E poi io ho fatto molto sport, questo sì, tutta la mia vita. Dal tennis e poi lo sci, la scherma, ho fatto tante cose, vela, canottaggio. E quindi questa attività che io ho continuato a mantenere anche negli anni. L'ingegnere Scuto per noi ha dimostrato grande simpatia, ma soprattutto noi abbiamo apprezzamento della sua persona. Questo è un uomo straordinario, un uomo che ha vissuto una vita intensa, una vita ricca di cultura, una vita ricca di azione, perché è stato un ufficiale nella Seconda Guerra Mondiale. Un uomo ricco di esperienze e di tanta umanità e che vive la vita sempre col sorriso in bocca. Per questo dico per noi è un esempio. Stamattina io sono andato già da lui a casa a festeggiare insieme il compleanno, però volevamo riceverlo dal Comune per averlo come esempio, per fare stamattina una chiacchierata con lui, non solo per fare gli auguri, ma per fare una chiacchierata, per apprendere dalla sua storia, per avere un significato importante nelle sue parole, in quelle che possono essere gli insegnamenti, quello che è stato per lui il motivo fondamentale della sua vita, della sua esistenza, e che l'ha portato oggi a viverla serenamente, sorridendo, avendo un'attività motoria importante. Lui fa sport, vive la famiglia a 360 gradi, ancora è ricco di impegni ed è impegnato anche da un punto di vista mentale, perché la sua attività non l'ha mai smessa, non si è mai disinnamorato del proprio lavoro. Lui è un ingegnere presente, ancora attento a quelle che sono le dinamiche, a quelli che sono gli aggiornamenti, quindi mi sento di dire mente sana e incorpore sacro.